Un'altra idea, devo realizzare un qualcosa di interattivo, una sorta di totem Mi hanno regalato un totem che devo provare, vedere se funziona, se non funziona e quanto altro E poi soprattutto rivestirlo anche con la stampa 3D e renderlo un po' più carino Questa è un'idea di video che dovrò realizzare Se vi interessa sapere come andrà a finire questa avventura del totem interattivo Non vi resta che seguirmi, intanto però vi faccio vedere il totem Questo è il totem che mi hanno regalato, va rivestita tutta la parte metallica Sicuramente utilizzerò la stampa 3D per rivestirlo Lo schermo sembra abbastanza buono e non mi resta che provarlo Poi c'è il gabbiotto dove dentro possiamo metterci un computer, qualcosa per controllare, per renderlo interattivo Nel prossimo video vedremo come andrà a finire questa avventura E vedremo se riusciremo a portare a termine quest'idea del totem interattivo Non vi resta che seguirmi, iscrivervi al canale e attivare la campanellina Ciao al prossimo video